Un video un po' diverso dal solito, ragazzi, qualcuno di voi mi ha detto però facciamo anche qualche rubrica innovativa e allora stiamo qui sperando possa essere un contenuto apprezzato, credo di sì, credo di sì, dai, saranno, vedete anche foto, immagini, dunque rimanete lì, vi invito prima a lasciare un bel like qui sotto e iscrivervi sul logo di Milanello, fatelo numerosissimi, mi raccomando. Non solo, in apertura vi invito a scaricare anche l'app di numero 10, è gratuita qui, tra breve saremo presenti noi di Milanello e tra chi la scarica da questo link uno vincerà la maglietta del Milan della prossima stagione, scatenatevi ragazzi. Allora, partiamo subito, è chiaro che il calciomercato in estate la fa da padrone, sui giornali il 90% è tutto calciomercato, nelle trasmissioni tv il 95% tutto è calciomercato, su Milanello c'è tanto calciomercato ovviamente, ma oggi ci distinguiamo un po', andiamo a sottolineare alcuni aspetti e a breve vedrete anche delle foto, perché ovviamente il calciomercato è proprio ideutico, è una squadra più forte, è il campo, che è poi la cosa più importante, vincere sul campo, provare a ripetersi, vincere un altro campionato, vincere la seconda stella, che sarebbe molto importante, anche perché lo faremo prima dei nostri cugini rivali che già assaporavano la stella, ma era di cartone alla fine la scorsa stagione. Intanto alcuni bravi e giocatori che sono arrivati prima hanno accorciato le vacanze, hanno già lavorato nei giorni liberi, come Calulo Milanello, Domenica, Florenzi, che è arrivato prima, Tonali due giorni prima, significa che abbiamo un gruppo sano, motivato, che vuole non adagiarsi su una vittoria, ma alzare ulteriormente la sticella. Sono segnali, possono essere banalità, secondo me no, e quindi vale la pena sottolinearli. Mi è piaciuto molto, ad esempio, anche Messias, che ha detto, ringrazio Signore per poter continuare il mio lavoro in questo club, e quando tu lo dici e perché lo pensi, Messias non è uno che dice cose tanto per buttare fumo negli occhi ai tifosi, ma perché davvero si sente fortunato, quando ti senti onorato a vestire una maglia, allora davvero dai il 101%. Messias che l'anno scorso era stato condizionato un po' da una preparazione molto approssimativa fatta a Crotone, ci ha messo un po' a carburare, poi si era fatto male, poi ha dato un contributo comunque di 5 gol, un assist importantissimo, quello a Leao, non banali, sperando che quest'anno se resterà potrà dare ancora di più, non credo da titolare appunto. Ho visto cose come Rebic che arriva prima a Milanello, arriva il giorno prima, dorme lì, rispetto al raduno del 4, arriva al 3, l'ho visto anche motivato e tirato in allenamento. Guardate, questa è una foto di Rebic che mi sembra a livello atletico decisamente in condizione, l'ho visto anche con i miei occhi al di là di questa foto, ed è importante se arrivi con la testa e il piede giusto, perché Rebic l'anno scorso ha avuto poco o nulla. Un po' troppo indolente. Se quest'anno Rebic fa il Rebic abbiamo una risorsa in più che è formidabile rispetto a quello che ricordiamo appunto due anni fa nella seconda parte. E poi ho notato altri aspetti, ho notato, mi è impressionato la muscolatura di Pobega, però questo è un particolare, ho notato che Brahim è cambiato proprio a livello fisico in una maniera incredibile. Guardate, questo è il Brahim dopo la prima giornata della scorsa stagione, tirato ma un po' gracilino, e questo invece è il Brahim che si è presentato a Milanello, con tanti muscoli in più nella parte alta, e secondo me, ecco, lui ha lavorato seguendo anche delle direttive da parte dello staff atletico del Milan, che evidentemente ritiene che per un giocatore come lui è fondamentale mettere qualche muscoletto in più. Obiettivamente la scorsa stagione lo portavi via come volevi. Magari, ecco, anche Messi è uno basso, però è più robusto rispetto al Brahim della scorsa stagione, oltre a una qualità diversa, è uno che magari non sposti così facilmente come Brahim l'anno scorso. Questi muscoli secondo me non sono casuali, ma sono proprio indicativi della volontà di migliorarsi rispetto a un deficit fisico che aveva la scorsa stagione. Guardate appunto che differenza, e i muscoli in più possono essere appunto un'arma da sfruttare, o meglio, un limite in meno rispetto alla scorsa stagione. Non solo ho apprezzato molto la dialettica di Adli, quanto sia intelligente, uno che suona il pianoforte, che legge, lo sapevamo già, però, ecco, cose non scontate, non banali, è arrivato, vi faccio vedere un paio di frame, lui è andato poi una volta, quando era allenarsi in palestra, a raccogliere l'acqua per tutti, ha preso 4-5 bottigliette, l'ha consegnata a Giroud, ad altri Rebic non l'ha voluta, però, ecco, è una cosa che, ripeto, non è banale, anche se può sembrare banale. Ti fa capire che è uno che è arrivato in punta di piedi, che si mette a disposizione del gruppo, sa che deve fare sacrifici, che prova a farsi voler bene anche in questa maniera, e rispetto a un mondo dorato di ragazzini che si montano perché vanno al Milan o perché giocano in Serie A, questo è uno che dimostra ulteriormente, anche da queste cose, che ha la testa sulle spalle, che è umile. L'umiltà è qualcosa che lo può portare davvero molto lontano, e quindi chapeau. E poi è fondamentale, anche quando arriva un giocatore nuovo, farselo sentire subito a casa, no? Ho apprezzato questo post di Tonali, che pubblica la foto di Adli in allenamento e scrive Sandro Adli o Yassin Tonali, perché c'è una analogia, c'è una somiglianza, di primo acchitto sembrano uno l'altro, l'altro l'uno, e tagga appunto Adli. È casuale, però sai, è anche un modo per iniziare a farti sentire vicino a questa persona che è appena arrivata, giovane, molto giovane, che può avere difficoltà di inserimento, è una cavolata, sì, però sono cose che servono anche per sentirsi accolti, per far vedere che tu sei un leader, o comunque un, tra virgolette, veterano, seppur giovane, che vuole accogliere l'ultimo arrivato, che si sente un po' meno ultimo arrivato. E poi ho apprezzato molto, ma lui l'apprezzo incredibilmente da tempo, Giroud, che dice ho fatto il mio lavoro da fratello maggiore quando è arrivato a Righi, quindi l'ho accolto, l'ho fatto sentire subito a casa, l'ho aiutato nelle faccende, diciamo, di organizzazione, l'ho aiutato a conoscere Milano e anche Milanello. E quindi bene, anche perché sono uno, rivale dell'altro, tra virgolette, rivale, si giocheranno il posto, e quando uno con cui ti giochi il posto ti accogli in quella maniera lì è molto bello. Su Giroud, ragazzi, mi ha colpito un paio di frasi. La prima, lui dice, voglio essere ricordato dai tifosi del Milan come un buon giocatore e una brava persona. Ragazzi, io dico sempre che si guarda sempre prima l'uomo del calciatore, e lui è una brava persona. Lo dicevo da tempo, mi aveva colpito, lo vedi che è una brava persona, come lo stesso Kier, no? E quando un giocatore dice, spero che mi ricordino come calciatore ma anche una brava persona, ragazzi, è una cosa che secondo me deve rendere orgogliosi i tifosi rossoneri. Poi lui ha detto altre cose da milanista con la M maiuscola. Ha detto che in doccia canta i campioni dell'Italia siamo noi, che l'ha insegnato ai suoi figli, che ha insegnato anche più Alison Feier ai suoi figli, che ha insegnato la canzone che cantano per lui i tifosi, siamo venuti quassù per vedere segnare Giroud. È un milanista, ripeto, quando tu entri e esposi pienamente il progetto lo fai vedere anche in queste cose qua. A me piace tantissimo come persona, come calciatore, sono sempre stato sul carro di giro anche quando eravamo in pochi, ha fatto colpesantissimi, ma poi è uno, ripeto, che nello spogliatoio ci vuole. Queste persone sono leader anche se magari non alzano la voce, appunto, non serve alzare la voce. C'è bisogno di bei personaggi, di belle persone e di milanisti, perché lui, anche se qui da un anno, è un grande milanista. Ho voluto sottolineare un po' questi aspetti, dei quali si parla un po' poco, in un video un po' alternativo, che però, ecco, credo possa distrarre rispetto alle tensioni del calciomercato per una decina di minuti e far apprezzare un po' di più anche quello che c'è già. I giocatori che ci sono, il progetto, i giocatori che vivono già quotidianamente milanello, i nuovi che si fanno voler bene e i vecchi che cercano di far ambientare anche i nuovi. Non è casuale e mi è piaciuto, appunto, sottolinearlo in questo video. Anche Origi si è presentato in maniera molto bella, per come parla. Io credo che sia un gruppo sano, che ha elementi ulteriori per competere. Ovviamente poi ci sarà il calciomercato, al quale dedicheremo tanti video, che dovrà portare anche altri valori tecnici per alzare il livello e per provare a vincere la seconda stella. Ho fatto un video alternativo, spero possa essere apprezzato. Nel caso lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi qui e attivate la campanella. Vi invito anche a scaricare gratuitamente nel link qui sotto l'app di numero 10. Uno di voi vincerà la maglia del Milan della prossima stagione, che inizierà a breve. Vi mando un abbraccio, ragazzi. Ho divagato rispetto al calciomercato, grandi tutti questi qui. Sperando ci possano essere altre belle storie da raccontare, o altri particolari aneddoti sfumature, che non sono sfumature comunque, che alla fine fanno la differenza. Vi mando un abbraccio, forza mina oggi più che mai, domani ancora di più. Ciao!